Gestivano lo spaccio della droga, cocaina, ruina, hashish e marijuana fino al metadone nel territorio di Mola di Bari e non disdegnavano di usare metodi violenti nei confronti di chi non pagava le forniture. Se persone sono state così arrestate dai carabinieri della Compagnia di Monopoli con l'ausilio di unità del nucleo cinofili di Modugno e di un elicottero del sesto elinucleo carabinieri di Bari. I militari dell'arma hanno eseguito in varie parti d'Italia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal G per il Tribunale di Bari. Gli arrestati tutti di Mola sono Giuseppe Benito Tanzi 36 anni, Giovanni Antonio Ruggeri 31, Angelo Castellana 44, Salvatore Francone 29 anni, Vincenzo Boccuzzi 37, Vito Ranieri 42 anni. L'accusa nei loro confronti è associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Notificato anche un avviso di conclusione delle indagini preliminari ed altri 19 indagati. Le indagini sono scaturite da una sparatoria nel circolo La Vecchia Guardia a Mola di Bari avvenuto il 1 agosto del 2014, quando due persone spararono alcuni colpi d'arma da fuoco contro due soci che stavano consumando una pizza durante la visione di una partita di calcio, offrendo un giovane di 29 anni. Il vero obiettivo del comando era però un pregiudicato locale di 32 anni, morto di recente dopo un lungo coma in seguito a un'aggressione subita l'estate scorsa in Olanda da parte di un gruppo di nordafricani. A conferma dei metodi violenti usati dal sudalizio c'è anche il pestaggio di un tossicodipendente nell'ottobre del 2014 per il pagamento ritardato di una fornitura di droga. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che il pregiudicato 32enne che nelle telefonate intercettate si definiva il re di Mola insieme al fratello maggiore, anche lui con precedenti penali, era capo di un gruppo criminale che gestiva lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Mola di Bari, in particolare in un bar situato nel centro storico. Nei locali sarebbe stata nascosta la droga mentre all'esterno stazionavano regolarmente alcuni complici con funzioni di vedetta per informare dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine.